Un saluto dal Tg della Mobilità, sino al 23 agosto dalle 20 a mezzanotte per lasciare spazio ad alcuni spettacoli di strada saranno chiuse al traffico, eccetto per gli autorizzati via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi, nel tratto tra via di San Gregorio e via dell'Ara Massima di Ercole. Su via dei Cerchi, sempre tra via San Gregorio e via dell'Ara Massima di Ercole, già dalle 18.30 di ogni giorno ci sarà il divieto di sosta. Saranno deviate su percorsi alternativi le linee di bus 51, 75, 85, 87, 117, 118 e 628. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.